Alvia una partnership di Estra SPA tra gli operatori leader nel centro Italia nel settore della distribuzione e vendita di gas naturale ed energia elettrica con Atala, leader europeo nel mercato delle biciclette ed accessori. La partnership prevede l'acquisto con sconti speciali riservati ai clienti di Estra di e-bike, mountain bike e city bike elettriche a pedalata assistita. Acquisto che potrà essere effettuato presso gli store e punti vendita di Estra nelle regioni di Toscana, Marche e prossimamente anche l'Umbria. Il nostro gruppo è attivamente impegnato nella salvaguardia dell'ambiente e nello sviluppo sostenibile, dichiara Francesco Macri, presidente di Estra. La partnership con Atala rappresenta un ulteriore passo in avanti compiuto da Estra in tale ambizioso percorso coerente con i nostri principi di responsabilità sociale e di impresa che ci vedono impegnati in prima linea con iniziative a tutela dei territori e a supporto dei cittadini nel loro quotidiano.